Giulia Stabile, pochi giorni fa, ha condiviso una bellissima foto sexy mostrando il lato sensuale di sé. Nello scatto si vede lei che indossa un vestitino floreale e il suo amore non ha potuto fare a meno di commentare questo bellissimo scatto. Anche se con un po' di ritardo, Sangio ha lasciato un bellissimo commento sotto la foto scrivendo «Che bella che sei?». I fan della coppia hanno subito notato la risposta del cantante. A loro non sfugge niente. Attualmente Giulia su Instagram ha raggiunto 1,4 milioni di followers e Sangiovanni per una strana coincidenza ha lo stesso identico numero di sostenitori. In questi giorni Giulia ha mostrato la sua solidarietà verso la scomparsa della grande ballerina Carla Fracci pubblicando un post a lei dedicato. La ballerina si è fatta anche portavoce di un messaggio importante, chiedendo aiuto ai suoi numerosi fan per un'emergenza che riguarda una ragazza di 20 anni che ha bisogno di sangue per un intervento al cuore. Per ora non ci sono altri aggiornamenti, ma iscrivetevi al canale per avere tutte le notizie su Giulia e Sangiovanni.